Un modello operativo in grado di fornire una risposta assistenziale di qualità ai minori che si presentano in pronto soccorso. E' lo spirito del fast track pediatrico, ovvero il proprio percorso dedicato ai minori fino a 18 anni, inaugurato oggi alla Santissima Annunziata di Chiti. La novità ci viene illustrata dal direttore della clinica pediatrica, il professor Francesco Chiarelli, che parte dai numeri. Facciamo circa 10.000-12.000 accessi ogni anno per i bambini e quindi abbiamo ritenuto di insistere con la direzione generale che ci è stata vicina in questo senso, di attivare questo fast track pediatrico e di avere degli spazi al pronto soccorso generale qui a Chiti. Quando il minore arriverà qui, che cosa troverà? I codici bianchi, verdi e gialli saranno gestiti da medici, infermieri e operatori sanitari di supporto specifici per il pronto soccorso, quindi non dovranno fare la fila giù. I codici rossi per l'ergenza invece saranno gestiti direttamente al pronto soccorso, quindi questo riteniamo che consentirà ai bambini e alle famiglie di avere un track, un percorso preferenziale specifico. Oggi il taglio del nastro, quando concretamente partirà questa nuova iniziativa? Il primo aprile, quindi non sarà un pesce d'aprile. Nell'incontro con la stampa il direttore generale della Asla Teatina, Thomas Schell, ha parlato anche del futuro ammodernamento dei locali del pronto soccorso e altre novità che a breve interesseranno il Policlinico. Questo grazie ad un finanziamento fondi nazionali pari a 1,5 milioni di euro. L'assessore regionale Nicoletta Verisi è invece soffermata sul fatto che la sanità abruzzese debba sempre di più porre al centro dei percorsi sanitari e socio-assistenziali la persona. Chiusura con il direttore del pronto soccorso, Emanuele Tafuri. Dottore Tafuri, lei in fondo è da poco tempo, da cinque mesi, che dirige il pronto soccorso qui a Chiedi, però oggi è una giornata importante, no? Io sono orgoglioso di quello che stiamo facendo oggi perché attivare un percorso dedicato, un pronto soccorso pediatrico rappresenta un segno di innovazione e soprattutto di rispetto verso quelle che sono le esigenze di salute del bambino, che non è un piccolo adulto, ma ha delle necessità intrinseche importanti che devono essere rispettate. Quindi veramente è un grande giorno da festeggiare. Allargando un po' il discorso, il sovraffollamento del pronto soccorso o dei pronto soccorsi, di tutti i pronto soccorsi, è un po' un tema centrale della sanità. A Chiedi a che punto siamo? Chiedi, come tutti i pronto soccorsi italiani, soffre di questo sovraffollamento. Noi stiamo cercando delle soluzioni, in primis col territorio e in primis con i medici e medici in generale. Abbiamo istituito un tavolo permanente che ci permette di trovare delle soluzioni concrete sul territorio, per meglio sfruttare quelle che sono le strutture già presenti sul territorio e magari indirizzare i pazienti che non hanno necessità di urgenza su delle strutture territoriali gestite insieme ai medici e medici in generale per permettere un percorso virtuoso e rendere fruibile il pronto soccorso realmente a chi ha delle situazioni di emergenza.